Direttamente da Londra, presenta un brano tratto dal suo ultimo LP, il brano di Sidon Amor, cioè ancora Doctor and the Medics! Venga signor Nicola! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, no, proprio vederli e sentirli, mi dono pa! Ho capito, va bene. Cercavo capire. Io vi lascio con il mister Zuzuro, il doctor and the medics, e ci vediamo tra un po'. Intanto vi annuncio le grandi attrazioni che ho già annunciato prima, cioè il grande prossimamente di stasera, tira Turner, la Esaminelli. Boy George, sapeste che cosa c'è all'uscita di questo centro palatino in attesa di Boy George? E poi tutto il pubblico che attendeva a Boy è rimasto scioccato. E così, la verità, all'arrivo di Alain Delon. È una gran serata!